benvenuti alla lenzio automobili oggi vi porterò alla scoperta del salone kia andiamo ora vi illustrerò tutti i modelli presenti all'interno del salone andiamo il primo modello che vi voglio presentare oggi è l'ultimo arrivato in casa kia è la una shooting break filante e moderna ideale per un pubblico giovanile questa è la nuova sorrento uscita nel 2018 macchina utile per una famiglia molto numerosa che vuole fare gite fuori porta o comunque sia vuole affrontare qualunque tipo di terreno ecco invece new sportage uscita anch'esso nel 2018 nella sua versione più moderna è ideale per chi vuole farsi notare ma avere costi contenuti nuova seat station wagon appena uscita sul mercato ideale per tutte quelle famiglie che non amano rinunciare allo spazio ecco qui nuova rio auto del segmento b di kia è dotata di qualunque accessorio ideale sia per giovani che un pochino meno giovani ecco qui new nero una macchina ideale per tutte le persone che amano viaggiare ecologici nuova b canton e la sua versione più accessoriata ideale per chi necessita di un'auto che gli possa dare qualunque soddisfazione ma in uno spazio contenuto e per concludere kia stonic un urban crossover ideale per un pubblico di ieri di oggi e di domani spero che questo video vi sia piaciuto se è così lasciate un bel like io sono gabriele e vi aspetto alla lenza automobili in viale marconi 62 a prato ciao